Avete un povero di peso? Non riuscite a dimagrire? Niente paura, già qui D-Magrini riduce il vostro peso già dalla prima settimana e a confermarlo abbiamo qui oggi il grande attore, Fulio Generoso Sì, col lavoro che faccio ho bisogno di un fisico sempre in forma e con i vari impegni non ho avuto il tempo di dedicare la palestra per questo uso D-Magrini e devo dire che funziona Visto? Anche il Fulio Generoso usa D-Magrini Allora cosa state aspettando signori? Basta con le noti di fatica Chiamateci subito, non guardate nessuna attenzione Viverly, vi aspetta!